Buongiorno a tutti, cari ragazzi, ogni anno siete molti di più e ciò riempie il nostro cuore di gioia e forse anche questo bel tempo è il segno di questa gioia che portate. Milano è qui oggi al Giardino dei Giusti in quanto città dell'accoglienza e della pace, ecco queste sono due definizioni a cui noi teniamo molto, la capacità di essere accoglienti e una città pacifica e il Giardino dei Giusti è il segno visibile di questa identità milanese, una città che non ha mai voltato le spalle ai drammi del mondo ma anzi ha continuato a aprire il suo cuore a chi fugge da guerre e da persecuzioni. I giusti che oggi onoriamo in questo giardino insieme a Garivo hanno testimoniato in ogni parte del mondo e in diverse epoche un'idea universale che appunto è la base della nostra identità, l'idea della responsabilità dei singoli rispetto all'umanità perché se sei una persona vera allora non puoi non farti toccare dal grido di dolore degli altri uomini e delle altre donne e invece di girarti dall'altra parte agisci, provi a dare una risposta, metti in moto le tue doti e le tue capacità, ci provi, ci provi sempre cari ragazzi perché le tue sorelle e i tuoi fratelli in umanità siano sollevati dall'oppressione. Questi giusti hanno fatto semplicemente questo, non si sono girati dall'altra parte, hanno provato sapendo che non potevano essere certi in partenza di fare una cosa di successo, ma ci hanno provati e Milano è questo che cerca di fare e noi siamo orgogliosi. Oggi i giusti che ricordiamo sono Ho Feng Shan, console cinese a Vienna, dopo l'annessione nazista rilasciò a cittadini ebrei visti di spadre, mentre tutti gli altri paesi comprese, ed è bene ricordarlo, tutte le democrazie europee di allora li rifiutavano. E' qui presente oggi Ho Man Li, nipote di Ho Feng Shan, a cui va il saluto di tutta Milano. E poi Hammo Shero, uno shahida che accolse e protesse migliaia i rifugiaschi armeni. Ecco, un altro insegnamento per voi ragazzi e portiamo qui l'attenzione verso una questione epocale e il dramma di un popolo che ha sofferto tanto. All'epoca del genocidio degli armeni ad opera del governo dei giovani turchi, stiamo parlando dell'epoca tra il 1915 e il 1918, il piccolo popolo degli Yazidi che abitavano nel Sinjar, una catena montuosa dell'Iraq settentrionale, si schierò a difesa dei perseguitati. Erano un piccolo popolo, una piccola comunità, ma non esitarono a prendere la parte dei perseguitati. E questo è stato il solo luogo di tutto l'impero ottomano dove gli armeni fuggiaschi sono stati accolti e protetti. Oggi l'associazione Yazida è qui con Farida Bas Kalad che li rappresenta. Poi ci sono altri due giusti, Costantino Baratta, un pescatore di Lampedusa che ha accolto e aiutato i profughi sull'isola e salvato diverse vite in occasione della tragedia del 3 ottobre 2013. E una vita è una vita, di fronte a tanti che purtroppo non ce la fanno. Salvare una persona è un'opera importantissima. E poi Daphne Lumidi, albregatrice di Lesbo, che è stata arrestata per aver accompagnato in auto al traghetto per Atene i profughi sbancati nel 2015. Per aver fatto una piccola cosa, averli accompagnati in auto al traghetto di lei a Lesbo che faccia toccare con mano la filoxenia, cioè l'ospitalità, la vicinanza allo straniero del popolo di Lesbo. Questi giusti, come tutti quelli ricordati nel giardino del Monte Stella, hanno agito in prima persona, prendendosi la responsabilità delle loro scelte e molto spesso pagandone le conseguenze. Ma hanno anche agito esprimendo il sentire di una comunità, di un popolo, di una cultura. La Cina, il popolo Yazida, Lesbo e Lampedusa sono con loro altrettante patrie universali, aperte a chi soffre. Io mi auguro ragazzi che Milano sia intesa così, una città in cui ognuno fa una sua piccola parte ma perché sa che ha dietro una comunità che apprezza chi fa del bene agli altri. E grazie a Garivuo, cui partecipa il Comune di Milano, l'azione di memoria di testimonianza della nostra città, era riuscita ad assumere in pochi anni una dimensione internazionale forte e a incidere nell'agenda europea. Lo dico perché nel 2012 il Parlamento europeo ha colto l'appello di Garivuo istituendo la giornata europea dei giusti il 6 di marzo. E quindi dal 2017, dall'anno scorso, la giornata dei giusti e solennità civile in Italia. Ogni anno il 6 di marzo tutta Europa, tutta Europa, su un impulso partito da Milano, dalla nostra città, torna a celebrare i giusti e le loro scelte di libertà. Quanto questo sia necessario oggi in Italia lo vediamo tutti molto bene. Al di là e dopo questo voto, senza vicitori e con l'eterno elettorato diviso, c'è il rischio che prevalga dal conflitto sociale tra categorie, interessi, nord, sud. Ecco, un rischio concreto. Ma noi da Milano continueremo a lottare e stiamo usando il nostro antidoto. Qual è il nostro antidoto a queste tensioni, a queste divisioni, a queste separazioni? È quello di lavorare in modo positivo, perché sia il momento delicato, ma lavorando con l'accoglienza, la tolleranza, il no al fanatismo come i nostri sentimenti veri, sentiti e attuati. E se oggi un rischio c'è, devono essere proprio i leader politici a doverlo disinnescare con responsabilità, dando spazio a scelte come quelle che nel loro tempo e nei loro ambienti hanno fatto i giusti di ogni epoca. E la mia promessa a tutti voi è di cercare di essere sempre così, sempre vicino ai nostri cittadini, sempre cercando ogni singolo giorno di dare un piccolo insegnamento, perché questo non è l'insegnamento che il vostro sindaco vuol dare, ma è l'insegnamento che la vostra meravigliosa città e cioè Milano vuol dare. Grazie a tutti voi.